L'amicizia tra l'Austria e la Francia deve essere cementata da un matrimonio. La mia figlia minore, Antoine, sarà regina di Francia. La mia figlia minore. La corte di Francia non è come Vienna. Ascolta attentamente i consigli dell'ambasciatore Mersi. Avrai tutti gli occhi puntati su di te. La costruzione. vi piace agli occhi molto buoni è il classico tipo francese il nostro corso è il nostro corso Tre, quattro, sei, era sette. Siamo arrivati? Sì, siamo arrivati a Schüttern per la consegna ufficiale. Poi verrete presentata al re e al vostro fidanzato, Louis Auguste. Altezza Reale, vi presento la Gran Maestra della Casa, Contessa di Noaia. Altezza Reale? Madame. Il padiglione per la cerimonia di consegna è costruito appositamente a cavallo del confine tra le due grandi nazioni. Entrata da suolo austriaco, uscirete su suolo francese come delfina di Francia. Prendete comiato dal vostro seguito e da tutto quanto è austriaco. Amiche mie, addio. Mops! Avrete tutti i cani francesi che vorrete. È costume che la sposa non conservi nulla che appartenga a una corte straniera. Una regola sempre osservata in tali occasioni. Che? 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 Siete fortunati, sembra che sia molto bella Io finirò per sposare una che somiglia a un cane O a un cavallo O a un cavallo Dicono che è d'animo gentile Ci saranno dei conigli qui, qui sanno Andiamo Notate niente di strano in me ultimamente Oh, oh, non è tutto fango qui E il mio steno che sta già un po' malino Ecco, ci fa cammina Stai un po' meglio adesso, stai un po' meglio cammina Non vi sentite? La mia cagnetta l'hanno distrutta Non stiamo molto bene Oh Dio, non si sa dove mettere i peccati Sbrigatevi Veniamo No, 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 non si sa dove mettere i peccati Oh, Geeza Allora No, 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 no Eh, 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 eh Come hai il seno? Io non ho guardato il seno della cituchessa, maestra Davvero? Quella è la prima cosa che guardo Il duca di Choiseul, il ministro degli esteri artefice di questa unione Non dimenticherò che siete il fautore della mia felicità E di quella della Francia Prego Ecco l'austriaca Spero che vi piaccia l'austriaca Vi presento madame la Dauphine, Maria Antonietta Mio re e mio caro nonno Benvenuta madame Permettete che vi presenti mio nipote, Louis Auguste Benvenuta madame Sembra una bambina Benvenuta madame Benvenuta madame Buongiorno madame Buongiorno Grazie Grazie Prego madame Grazie 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 a tutti Grazie a tutti Buongiorno 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 a tutti